Salve e bentrovati a questa edizione del nostro telegiornale che apriamo parlando della vicenda dei motopescherecci sequestrati sono continui i contatti fra la Farnesina e il governo egiziano per la liberazione dell'equipaggio dei due motopesca. Il governo ha attuato tutti i suoi canali diplomatici per venire a capo della situazione relativa al sequestro dei due motopesca siciliani, tra i quali il Jonathan appartenente alla marineria siracusana. Il ministro dell'agricoltura Maurizio Martina si trova al Cairo per missione istituzionale e si sta adoperando per acquisire altre informazioni e chiedere il rilascio immediato dei membri dell'equipaggio. Dalle informazioni trapelate pare proprio che i membri dei due motopesca stiano bene. Non appena presa la notizia del sequestro da parte dell'autorità egiziana e dei due motopescherecci ho contattato la Farnesina per avere il quadro di ciò che è accaduto ma soprattutto per conoscere le strategie in atto per il rilascio immediato degli equipaggi. Così il deputato nazionale del PD Sofia Amoddio, l'ufficio tutela italiana all'estero e in particolare la sezione politica ha rassicurato sui contatti continui tra Farnesina, l'ambasciata italiana e autorità egiziana. Dalle prime informazioni pare che i pescherecci si trovassero all'interno di quella che viene definita zona economica esclusiva, da qui le rivendicazioni legate alla pesca in quel tratto di mare. precisa Amoddio che non si tratta di un problema politico legato ai fenomeni migratori né tantomeno a un atto di terrorismo internazionale. Ma anche se tutto è passato in mano alla Farnesina per le trattative e quant'altro ci sia da fare riguardo alla vicenda dei due motopesca, noi abbiamo comunque voluto chiedere l'opinione del comandante della Capitaneria di Porto di Siracusa. Comandante, due famiglie o più famiglie comunque preoccupate per questa vicenda, adesso è la Farnesina a avere preso in mano tutto, però da ieri cosa è successo? Bene, nel tardo pomeriggio di ieri due pescherecci, uno distanza Siracusa, l'Alba Chiara, l'altro iscritto a Cagliari ma con base operativa riposta, sono stati fermati dalle autorità egiziane, e sono stati scortati, ci risulta nel porto di Alessandria. Della cosa è stato naturalmente interessato subito il comando generale del corpo delle Capitanerie di Porto e il Ministero degli Esteri che si è già attivato per trovare una soluzione il più possibile veloce a questa faccenda. Si tratta probabilmente di un'invasione di acque territoriali altrui nella sua esperienza? Ma guardi, al momento non ho notizie certe su questo, naturalmente capirete il mio riservo perché è il mio riservo che nel momento in cui la Farnesina, quindi il nostro organo di contatto con lo Stato estero si sta attivando, dobbiamo far fare a loro questo lavoro. In altri casi che non siano questo, comunque voi Capitaneria è fornita degli elementi ai pescatori o chi si allontani dalle coste siracusane, cioè ci sono dei limiti da rispettare generalmente? Noi raccomandiamo più volte nei contatti frequenti che abbiamo con i pescatori il massimo rispetto delle norme al diritto internazionale, quindi sui limiti delle acque territoriali e sulle zone di pesca. Diciamo che facciamo un'opera di informazione e cerchiamo anche di prevenzione. Non sempre si ottengono buoni risultati, nel fatti specie adesso ancora dobbiamo verificare esattamente cosa è successo, ma più di questo al momento non posso dire, essendo la cosa nelle mani del Ministero degli Esteri. Generalmente chi si allontana molto per il lavoro lo fa perché magari ritiene che siano acque più pescose e rischia, sceglie di rischiare? Beh, sicuramente il peschereccio va là dove pensa di trovare un buttino un po' più cospicuo e rendere più efficace la sua battuta di pesca. Gli ex lavoratori della 6-8 hanno chiesto un incontro, la convocazione di una riunione in prefettura per vedere di trovare una soluzione positiva alla loro vicenda. Gli ex lavoratori della fallita società 6-8 con una nota indirizzata al prefetto di Siracusa e ai sindacati hanno richiesto la convocazione di un tavolo tecnico che a suo tempo si è occupato del tentativo di conciliazione per evitare la perdita di 150 posti di lavoro. Le procedure di messa in mobilità e quindi di licenziamento ai lavoratori sono state avviate, come si ricorderà, dalla curatera fallimentare alla fine di maggio scorso. Una condizione che si era resa necessaria dal fallimento della 6-8, al quale si sono aggiunti l'introduzione della legge regionale, la cosiddetta Vinciulo di Marco, e la gestione diretta degli impianti per l'allogazione del servizio idrico integrato da parte di alcuni comuni. Novità che hanno fatto venire meno le condizioni normative, amministrative e contrattuali per il subentro di altro soggetto nell'azienda 6-8, che attualmente sta soltanto gestendo la riscossione dei crediti vantati sugli utenti morosi e il pagamento di bollette nei casi in cui ad essere creditore è l'utente. Una vicenda resa ancora più complicata all'intervento della magistratura nel caso dell'appalto del servizio idrico integrato per Siracusa e Solarino, un servizio giudicato da un gruppamento di imprese con capofila una società spagnola che avrebbe dovuto entrare in possesso degli impianti. già nei primi giorni del mese d'incorso. Concordo con la richiesta dei lavoratori, ha commentato l'orarevole Vinciullo, e sin da adesso mi dicaro disponibile a partecipare a tutti gli incontri utili e necessari per trovare una soluzione positiva che scongiurli i licenziamenti ai lavoratori e porti invece alla loro reintegrazione nei rispettivi posti di lavoro. Sono sul piede di guerra le 12 guardie giurate in servizio al Palazzo di Giustizia di Siracusa, infatti da mesi non percepirebbero stipendi e quindi hanno deciso di protestare. Le 12 guardie giurate che espettano il servizio all'ingresso del Palazzo di Giustizia di Viale Santa Panagia hanno deciso di fare la voce grossa. Da mesi ormai non percepiscono lo stipendio e sono stanchi di ricevere promesse sia dall'azienda della quale sono dipendenti, sia dall'amministrazione comunale. Diverse sigle sindacali di categoria hanno trovato l'intese per mettere in atto una forma di protesta democratica. Domattina, infatti, i 12 lavoratori si sono dati appuntamento davanti al Palazzo di Giustizia di Siracusa per dare vita ad un presidio. Insieme con loro ci saranno i rappresentanti e le organizzazioni sindacali che stanno seguendo l'avvertenza. Da un mese circa il sindacato ha proclamato lo stato di agitazione, ma tutt'oggi i lavoratori non hanno tenuto alcun riscontro dalla committente, la CIA Security di Catania, più volte sollecitata a corrispondere agli stipendi arretrati. L'Assemblea della Camera di Commercio di Siracusa darà la propria disponibilità all'accorpamento con gli enti camerali di altre tre province della Sicilia orientale. Intanto ha aumentato il tributo camerale. Si è riunita questa mattina l'Assemblea dei rappresentanti dell'Associazione di Categoria per discutere sull'ipotesi di accorpamento delle Camere di Commercio di Siracusa, Ragusa, Catania e Messina. Si è trattato di una riunione del tutto esplorativa, nel corso della quale i rappresentanti delle categorie produttive siracusane hanno dato quasi tutto il proprio assenso all'accorpamento. In realtà di concreto non c'è nulla. Manca una normativa ben specifica che prevede la modalità e i criteri per poter riunire gli enti camerali. La discussione quindi è incentrata sull'orientamento espresso da Union Camere a far nascere un organismo ristretto per la gestione degli enti camerali. Per quanto riguarda la Sicilia orientale, l'indicazione è quella di far accorpare le Camere di Commercio delle quattro province interessate. Siracusa è quella che, nel discorso dell'accorpamento, è più avanti rispetto alle altre al punto da essersi già espresse per una disponibilità all'accorpamento che prevede un'unica rappresentanza per tutte le province. L'operatività della proposta però spetta al Consiglio Camerale, i cui componenti hanno raccolto pareri e indicazioni provenienti dalla base. È operativo invece l'aumento del 30% del tributo camerale, l'incremento del balzello colpisce tutte le imprese iscritte alla Camera di Commercio. Non tutti si sono detti favorevoli all'aumento della quota annuale di iscrizione. Confesercenti e Casa Artigiani hanno votato contro il provvedimento che si ripercuota sulle piccole imprese commerciali e artigiane della provincia, già provate da una crisi economica che li costringe spesso ad abbassare le sara cinesche. Intanto si è tenuto un minuto di silenzio in raccoglimento e in memoria di Alvaro Di Stefano, già componente del Consiglio Camerale, la riunione rinviata venerdì prossimo. Ci fermiamo, c'è la pubblicità per qualche minuto, subito dopo qui per la seconda parte. Vi aspettiamo. Entra nel mondo Gemar Questa settimana in offerta Supermercati Gemar Sul reparto abbigliamento sconti fino al 50% Oggi c'è una casa tutta Scavolini che ti aspetta. Oggi, da Scavolini Store Siracusa, ti aspettiamo con un'imperdibile offerta. Acquista la tua cucina Scavolini, noi ti regaliamo un frigorifero Samsung e la paghi in 20 rate. A interessi ZEC Scavolini Store Siracusa Via Scala Greca 381 Allora, telecamera, riesci a vederla? Sì, sì, è davanti a un negozio. Bella, vero? E poi è bella anche dentro, a stile. E guarda che cromature! Cromata? Ma chi, la ragazza? Ma va, io parlavo della nuova Yaris! Ah, ti sei innamorato di un'auto! Ma non è un po' strano? E perché una telecamera che parla non è ancora più strano? Scopri la nuova gamma Yaris. Geniale come sempre. Trendi come non mai. Oggi è tua da 10.250 euro. Autosport. Concessionaria Toyota. Contrada Tarja. Siracusa. Autosport. E anche Opel. Bentrovati alla seconda parte del nostro telegiornale. Domani, come di consueto, si svolgerà in Piazza Duomo la tradizionale festa del Corpo di Polizia Municipale. Le mie spalle sono immagini di repertorio dello scorso anno. Alle 10 lo schieramento in piazza di tutti i reparti passati in rassegna dal sindaco e dal comandante comandante Correnti. Poi 10 e mezza la celebrazione della messa preseduta dall'arcivescovo Salvatore Pappalardo a Santa Lucia, alla Badia. Fondazione Inda si è insediato il nuovo sovrintendente vuole restituire all'istituto la sua dimensione internazionale ha detto lui e Gioacchino Lanza Tomasi. Si è insediato questa mattina il nuovo sovrintendente della fondazione Inda, Gioacchino Lanza Tomasi uomo di cultura di lungo corso e il professore ha già lanciato il suo piano ovvero internazionalizzare i spettacoli classici ma anche attrarre il turismo culturale per trasformare anche attraverso il passaparola l'evento in un evento mondiale. Professore, lei è partito nel suo racconto un po' dalla memoria un pochino alla Bergman che da piccolo vedeva le piccole figurine il teatro delle ombre e lei su questa memoria vuole costruire qualcosa che sia molto potente? La letteratura teatrale c'è questo poi Goethe partiva dal teatro di Burattini che è quello si fa nella casa stessa Si ha parlato di saltimbanchi noi siamo i saltimbanchi Noi siamo i saltimbanchi Si è anche chiesto all'inizio perché io sono qui però poi ha dato delle risposte che rispondono molto chiaramente lei vuole internazionalizzare in qualche modo il teatro e portare Questo è un esito politico poi c'è un esito invece che noi incidiamo sulla coscienza, sul pensiero dell'umanità per quanto i saltimbanchi può fare ma il saltimbanchi è importante una persona che non fa Si è fatto un'idea di ciò che vorrà raccontare con la sua inda qual è il tipo di spettacolo che secondo te può stupefare maggiormente? Ma i spettacoli, noi i testi sono quelli che sono potremmo fare un ampliamento alla commedia senza un rispetto totale del testo la commedia si deve fare la commedia non ha funzionato quanto la tragedia perché si occupa di delle quotidianità che sono passate e quindi deve attualizzarle in qualche maniera infortunatamente il teatro non è come la musica io ero accusato non ricordo l'Oliviero dei Fabrizzi o Serafì in cui lavorava inizia a Roma e diceva ah tu sei di quelli che suonerebbe anche la copertina che allora noi filologia voleva che non si facessero tagli eccetera la prosa non c'è mai stato sempre fatto tagli e quello che integrazioni e compagnia bella questo su certi testi e soprattutto sulla commedia si può fare la tragedia ha una sua insomma illuminazione una cosa che fondamentalmente lo spettatore sa di che se parla e può rimanere stupito da delle discrasie degli accenti diversi con dei segni che lui può percepire o che escono alla sua memoria soprattutto infantile questo tipo psicologia e mito sono le cose che attraversano le generazioni parliamo adesso del cosiddetto cane di quartiere ormai c'è da tempo in diverse zone di Siracusa c'è chi lo ritiene un animale da amare e da tenere a punto in compagnia e da curare ma chi invece lo avversa qualcuno in questo senso ha fatto una denuncia ai nostri microfoni il cane di quartiere non soltanto come simbolo di convivenza tra luoghi e persone ma soprattutto un esempio di integrazione sociale nell'ottica dell'amore per gli animali ma non tutti sono d'accordo e spesso nei quartieri si anima la discussione tra chi accetta la figura del cane e chi la avversa io sono qua appunto proprio per questo motivo innanzitutto il fatto che vorrei fare capire sensibilizzare le persone cos'è il cane di quartiere comunque sia il cane di quartiere è seguito e quindi ha una tutor molte persone sono convinte che noi siamo le canare di turno e quindi minacciano che devono uccidere queste persone questi animali li devono avvelenare e niente noi in questo caso qui nella mia zona ci sono delle persone che ancora non hanno capito questo e continuamente vengono a casa a citofonarmi a minacciarmi puntarmi il dito dicendo che questi cani devono sparire che comunque devono andare a finire in canile allora intanto il cane di quartiere è previsto dalla legge 15 del 2000 e il comune di Siracusa nel 2005 ha proprio fatto un regolamento per quanto riguarda il cane di quartiere il cane di quartiere è un cane che viene monitorato dai servizi veterinari dell'ASP è un cane che per ottenere la qualifica di cane di quartiere deve avere un indole docile e viene monitorato dai volontari quindi il cittadino non si deve spaventare del cane di quartiere perché il cane di quartiere anzi diciamo che impedisce che nella zona dove ci sia il cane di quartiere arrivano i cani rannaggi che sono quelli veramente pericolosi Andiamo adesso a Lentini dopo il distesso finanziario del comune si pensa alla mozione di sfiducia al sindaco Mangiamelli e quindi ad un nuovo scenario possibile politico Il Consiglio Comunale ha approvato il distesto del comune di Lentini e adesso si pensa alla mozione di sfiducia al sindaco Mangiamelli ne parliamo con il consigliere comunale Avvocato Stefano Battiato Sì, il Consiglio Comunale ha votato il distesto ed il fallimento finanziario del comune e noi l'abbiamo classificato come il fallimento non solo del comune sotto il profilo tecnico quindi dell'ente ma l'abbiamo considerato come il fallimento politico di un partito del partito democratico ad oggi noi abbiamo in giunta ed in maggioranza solo un partito il partito democratico che ha una maggioranza relativa in consiglio comunale ha il sindaco, ha i suoi assessori quindi lo consideriamo veramente il fallimento politico del partito democratico Lentini Ecco, per concludere una mozione di sfiducia che sarà affrontata entro il 10-11 febbraio prossimo Sì, i tempi sono questi, sono quelli previsti dalla legge la mozione di sfiducia è stata presentata il 12 di gennaio motivo per cui la legge dice che non può essere discussa prima di 10 giorni dalla sua presentazione e non dopo 30 giorni motivo per cui il termine ultimo per poter appartare in aula per essere votata è quello che ha detto lei dell'11 febbraio i tempi sono importanti e anche importante segnalare che visto e considerato che al massimo l'anno prossimo si voterà nel caso in cui la mozione non dovesse passare sarà importante comprendere quello che succederà durante il consiglio comunale proprio della mozione di sfiducia poiché da lì si capiranno gli scenari politici si potranno intuire gli scenari politici che verranno in campo per il futuro politico ed amministrativo di questa città Il resto sport e il calcio del Siracusa pur non giocando continua a mantenere la vetta solitaria della classifica del Girone B del campionato di eccellenza l'unica squadra ad essersi avvicinata è quella dello Scordia Nella giornata in cui il Siracusa ha osservato un turno di riposo a causa del ritiro del mister Bianco dal campionato di eccellenza non è avvenuto il temuto aggancio alla vetta soltanto lo Scordia ha infatti approfittato dello stop forzato degli azzurri per avvicinarsi ad un solo punto dalla capolista Il Milazzo invece ha conosciuto l'amarezza di una nuova sconfitta di misura 2-1 contro le città di Messina Il cambio d'allenatore, via in settimana l'acqua non ha giovato a Emma Mertini che hanno sciupato una grossa occasione di affiancarsi al Siracusa e avere così il vantaggio psicologico di arrivare al big match in programma fra due settimane al Desimone Si dirà, ma anche a queste altre due contendenti per il salto diretto in Serie D dovranno osservare il turno di riposo ma è altrettanto vero che si devono osservare anche le sottigliezze per avere ragione di un torneo che consuma in fretta le sue giornate La squadra di Anastasi dovrà impegnarsi al massimo in questa settimana per presentarsi domenica prossima al Tupparello in grande forma fisica La Cirrare è la squadra che dal mercato di riparazione di dicembre è uscita ben rafforzata Lo dimostrano i risultati compresa la vittoria di ieri a Barcellona contro quella che era stata definita una delle pretendenti alla promozione in Serie D La squadra Granata ha scalato la vetta e adesso si trova alle spalle del terzetto di testa Mascara e compagni sono convinti che domenica prossima non si troveranno di fronte allo stesso avversario dell'andata quando gli sono stati rifilati 5 gol Ha ragione, chi dice che il futuro del campionato si decide in queste prossime due domeniche Se il Siracusa riuscisse a superare bene la trasferta insidiosa di Acireale con inizio alle 17.30 domenica prossima avrà la settimana dopo la possibilità di fare la voce grossa in casa contro il Milazzo atteso che proprio fra due domeniche lo Scordia dovrà stare alla finestra Bene per noi è tutto era l'ultimo servizio da proporvi il Te Giornale si conclude qui vi auguriamo un buon proseguimento di programma Grazie a tutti Grazie a tutti